Sulla partita, penso che abbiamo fatto un po' meglio rispetto all'avversario, abbiamo fatto risultato finalmente, anche se solo secondo del campionato, con due squadre che non avevano grosse cose da dire al campionato. Peccato, poi penso che è una partita con poco ritmo, ogni tanto qualche accelerazione c'è riuscita, anche secondo gol per me è una palla che bisogna giocare sempre, però l'abbiamo uscita solo ora. Sui tifosi, penso che i tifosi da tempo che contestano, un po' giustamente perché una squadra non ha dato mai delle soddisfazioni, però quando si esagera, si esagera e ogni tanto vanno fuori linea. Brugman per me ha fatto buona partita, forse l'unico di Vace, nel senso che ha partecipato, è fase offensiva, fase difensiva, con continuità e movimento. Io sono contento, io sono contento per lui, poi ripeto, per me prima non lo facevo giocare più perché nel contesto della squadra ho cercato sempre un mediano più difensivo che offensivo. Se gioca sempre così per me può essere utile. Perfetto. E un'altra invece, mister, la faccio su questo clima un po' avvelenato. Lei pensa che questa situazione possa condizionare o no il suo lavoro? No, ma io, a parte che io mi aspettavo peggio, nel senso che, ripeto, concetto, una squadra che vince due partite in tutto campionato è da criticare e da contestare. Poi magari se la prendono con il presidente che secondo me non ha colpe perché la squadra non l'ha fatta lui.